Conta di far leva sul buon senso dei consiglieri comunali il sindaco di Maschere Luigi Messina questa sera nella nuova seduta di Civico Consesso, nella quale i consiglieri sono chiamati a fare le proprie considerazioni e determinazioni sullo schema di bilancio 2016-2018. Messina auspica che i consiglieri mettono da parte gli interessi di gruppo per poi procedere all'approvazione del bilancio 2016-2017. La seduta si prospetta particolarmente animata in considerazione del fatto che Messina ormai da mesi non gode della maggioranza in consiglio comunale, che più volte i revisori dei conti hanno bocciato la schiava di bilancio approvato dall'Aggiunta e che molti consiglieri comunali hanno deciso di dimettersi dalle commissioni consigliari permanenti, rallentando di fatto l'iter amministrativo dello stesso consiglio comunale. Un aspetto quest'ultimo da non sottovalutare ma che tuttavia, secondo il consigliere di opposizione Carmelo Coltabiano, non rappresenta il problema principale per l'amministrazione Messina, così come ha tenuto a sottolineare più volte anche nell'ultimo consiglio comunale, rimarcando come solo grazie ai consiglieri di opposizione sia stato possibile per il consiglio mantenere il numero legale e permettere che i lavori consigliari si svolgessero rapidamente. Maschere, evidenziato Coltabiano, ha problemi ben più gravi che non sono quelli della Costituzione delle commissioni consigliari. Vedi la mancanza del bilancio. Sulla questione rifiuti, Maschere si attesta poi come il comune fanalino di coda della provincia. Tanti problemi nel settore acquedotto, le strade sporche e piene di buche, e non ultima la delicata questione del depuratore consortile. Grazie a tutti.